L'identità di un'esercitazione Vi voglio presentare Don Giuseppe E come sapete tra qualche giorno mi sostituirà Vi dovete stare vicini, come lui starà vicino a voi Mi raccomando Certo, a questi giovani hanno mannato Andano posto con me, Christ Hanno interrato rifiuti tossici Di tutti i tipi Per questo scembio che la nostra gente sta morendo prima del tempo Ma che ho visto, Christ? In questo posto purtroppo abbiamo delle priorità Lo capite sì o no? Mi hanno detto che è più di un anno che il campetto è chiuso I bambini dovevano ancora aspettare La prossima volta non pigliate iniziati Venite a dove? Tu sai che qua la situazione è complicata Quindi mantieni l'equilibrio Io sono qua per aiutare la bambina e aiutare anche te Ma devi fidare di me Quando si affrontano certi temi bisogna essere certo delle scelte che si fanno Sicurando? Sicurando? Ma quando sei venuto in tuo quartiere mio Mi hai creato solo un biglietto a randello Ma perché non fate un indagino? Non alzi la voce Provati quello che dice non ce ne sono Per ritrovo la moderazione L'equilibrio So che puoi farlo Dovete fare solo quello che dovete fare Fate sacerdote e basta Daniele se rimango in chiesa a pregare Sta agendo poco fine fa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti